Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, giovedì 16 giugno 2022 sul canale 19 di Fano TV c'è Occhio ai giornali che comincia come di consueto con l'almanacco, il santo del giorno, oggi in realtà sono due i santi, li andiamo a vedere subito con l'aiuto della grafica che adesso arriva, Santi Quirico e Giulitta, il sole è sorto alle 5.23 e tramonterà oggi alle 20.52. Andiamo subito da Tommy il Bagnino, andiamo a vedere che tempo fa sentiamo da lui che insomma si intende di... adesso arriva, eccolo qua. Tommy buongiorno, ecco vedo che dietro di te c'è una ruspa in movimento che sta sistemando un Bob. Buongiorno, sì, stiamo sistemando la spiaggia dopo la mareggiatina, se così la possiamo chiapare di due giorni fa, stiamo cercando di ripristinarla. Ecco, mareggiatine che sono una vostra esclusiva, perché mentre da altre parti non combina da anni, da voi invece qualche scompiglio lo combina. Però ne abbiamo già parlato ieri. Allora, il tempo per oggi, Tommy, sarà una bella giornata, immagino così come nei prossimi giorni? Ma direi proprio di sì, oggi abbiamo un sole splendente, diciamo che abbiamo un cielo privo di tuvole, perché ha sfogato un pochino stanotte, perlomeno in una buona parte della città, abbiamo avuto un piccolo episodio più vasco e oggi prevediamo una bella giornata. Ecco, quindi vedo anche una bellissima tavola. Ecco, io volevo adesso un attimo, con l'aiuto di Riccardo, il regista, tenere Tommy su uno schermo e invece andare con un'altra immagine. Ecco, Tommy, tu rimani fermo così perché sei più o meno inquadrato, mentre l'altra immagine arriva da Pesaro, vai a Flaminia di Pesaro. Guardate come c'è bassa marea, vedete come ce n'è tanta. A quest'ora è sempre così, Tommy, spiegaci un po', facci un po' di... Beh, diciamo che comunque la fase di alta marea e bassa marea dipende molto e molto influenzata anche dalle fasi lunari, quindi non è sempre detta che di mattina troviamo bassa marea e di sera alta marea. Però tendenzialmente la mattina comunque troviamo un mare un pochino più ritirato. Cosa abbiamo? La luna piena in queste notti, in queste sere mi pare, no? Abbiamo la luna piena. Eh, sicuramente influenzato, sì. Influenzato. Bene, allora, io direi di salutarci qui anche perché ho tante cose da leggere ai nostri telespettatori questa mattina, quindi ti auguro buon lavoro perché vedo che ne avete comunque. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Buona giornata e ci vediamo domani mattina. Ciao Tommy, grazie. Andiamo a leggere subito i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. La prima pagina è per il campione di basket, Pesaro Piange, questo campione di basket che ha fatto la storia del basket pesarese. Aveva 73 anni, parliamo di Paolo Gurini. Ciao campione, questo è il titolo della fotonotizia di oggi. A salita da una famiglia di cinghiali invece l'apertura, sempre la cronaca, da Urbino, esce a passeggio con il cane, lo vedremo dopo, un racconto tra l'altro davvero impressionante, esce a passeggio con il cane, il branco carica tutti e due, cioè lei e il cagnolino, lei gettata a terra e ferita. Ovviamente sono stati attimi di terrore. Poi il giro di tangenti, olio di oliva e legna da ardere, ecco alcuni omaggi natalizi al funzionario della regione, il giro di tangenti e regali a Eurolucidi. Poi di spalla qui, vedete da Fermignano il funerale dove tutto il paese si è fermato, il funerale di Fabio Ridolfi, note dei Metallica e fiori giallorossi. Poi l'albanese accusato di stupro, invece quello di Cattolica accusato di stupro ottiene i domiciliari, non convalidato dall'arresto in carcere. E sempre di spalla invece i medici riservisti con i bed manager per salvare il pronto soccorso. Abbiamo pure i bed manager adesso, insomma le dieci mosse per cercare di salvare questi pronto soccorso che sono sempre di più in affanno. La trafila per mettersi in regola invece di coloro che hanno fatto comunque il vaccino, ma magari un po' in ritardo e che a causa di un ritardo anche nella comunicazione da parte dell'Asur all'Agenzia delle Entrate, hanno ricevuto comunque l'avviso, la notifica che insomma c'è un procedimento in corso, poi l'arrivo dei 100 euro di multa e tutte queste belle cose qua. Raffi invece che ha stregato, qui siamo a Fano, Raffi ha stregato Vascorossi, aprirà lei infatti i suoi concerti, l'energia della cantante 23enne, poi la tragedia di Carpegna precipita nel canalone per 80 metri e muore. Corriere Adriatico, edizione pesarese, a centro pagina colpito da un pezzo di cornicione, questa è la fotonotizia, paura nel centro di Fano, resta ferito un barista. Vecchio Palace, qui siamo a Pesaro, invece nuova gara per il completamento della struttura, necessari ancora lavori per oltre 2 milioni e mezzo di euro, il sindaco Ricci dice è l'opera che mi sta facendo più arrabbiare, ma non annuncerò più date, quindi per non essere smentito in sostanza. Poi Riforma Sanità, per il pronto soccorso un decalogo taglia attese, un piano di 10 punti per riorganizzare il pronto soccorso in affanno, sono schiacciati tra la cronica carenza di medici d'urgenza ed un flusso di pazienti non sempre corretto, perché in oltre il 60% dei casi, dobbiamo dire, si tratta di codici verdi. La Regione ha presentato ieri le sue misure, che intende mettere in campo per accorciare i tempi di attesa, a partire dall'istituzione della figura del bed manager, colui che gestirà i letti, insomma. Missione Movida, il Comune invece a Pesaro incontra i gestori dei locali. A Sasso Corvaro riaperto l'ospedale, l'emergenza, il prossimo obiettivo. A Fermignano in chiesa la Dio Fabio sulle note dei metalli, che poi il geometra e le tangenti. Io valgo 2-3 mila euro, il funzionario dell'ex genio civile intercettato per mesi. Come mi danno i soldi? Diceva lui al telefono. Se rompo l'auto pagano loro. E poi violenza in spiaggia, il ragazzo ai domiciliari. Ripartiamo da Fano, Corriere Adriatico. Crollano pezzi di cornicione, noto barista colpito alla testa, Massimo Velli ferito davanti al suo locale in Via dei Amicis, recintata tutta la zona. Racconta, si teneva il capo, si teneva la testa e ripeteva il sasso, il sasso. Lorenzo Vedovi, che è il ristoratore fanese che ha soccorso il titolare del bar civico 68, Massimo Velli, che nel tardo pomeriggio è stato colpito al capo e forse anche ad un braccio da alcuni calcinacci che si sono staccati dal cornicione sopra l'entrata dell'esercizio in Via dei Amicis, nel pieno centro della città di Fano. Velli ha riportato lesioni a causa di questo episodio, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Fano ed è successo tutto intorno alle 18.30. Osvaldo Scatassi ha fatto un po' il giro e ha chiesto testimonianze, ha raccolto alcune testimonianze che troverete sul giornale di questa mattina. Tra l'altro, e adesso invece, restando su questa pagina, intanto vabbè, diamo la notizia perché purtroppo c'è stato un altro lutto, la diocesi perde un altro sacerdote, è morto il rettore del santuario di Spicello, Monsignor Cesare Ferri, lo vedete in questa fotografia qui sotto, molti lo ricorderanno, il funerale di Don Cesare sarà celebrato domani alle 16 nel santuario appunto di San Giuseppe in Spicello, sulle colline al confine con San Costanzo, dove il sacerdote ha prestato servizio per tanti anni. E Monsignor Cesare Ferri era nato a Cartoceto il 23 febbraio del 1931, era stato ordinato a Fano nel Monastero delle Benedettine il 23 agosto del 1953. E la sua morte segue di un giorno un'altra morte, il decesso di Monsignor Sergio Bertozzi, di cui abbiamo parlato ieri, che negli anni Ottanta fu vicario generale Vescovile. Le sue eseiquie, quelle di Monsignor Bertozzi, lo ricordiamo, si terranno oggi pomeriggio in Duomo alle ore 15. Poi sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano, io mi soffermerei un attimo, perché quando parliamo di strade cittadine, in questo caso parliamo di Fano, parliamo di disagi, spesso e volentieri perché sono piene di buche, allora finalmente arrivano lavori di asfaltatura, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale Occhialanotizia, per 31 chilometri di strade. Allora andiamo a vedere quali sono queste vie interessate, poi eventualmente trovate l'articolo anche su Occhialanotizia.it. Allora, le vie interessate a questi lavori di asfaltatura sono via Campanella, che è una via molto importante, tra l'altro qua vicino a noi, zona Colma, via Tognolo, in entrambe le direzioni, poi importante anche i controviali di viale Cairoli, quindi siamo alla zona Lido di Fano, zona anche turistica, zona Laghi a Ponte Sasso, via Bellandra, via Galilei, Fossa a Sant'Orso, Lombardi, via De Condotti, via Giannone, via Cuoco, via Giusti, via Papiria, nella zona Tre Ponti, poi via Del Ponte e via Roma, in entrambe le parti, via della Scuola, via Urbino, Villa Giulia, il collegamento, via Enaudi, ma soltanto in parte, via Mameli, via Media, via Turati, il tratto iniziale di via Turati, e via Mariotti. In più, attenzione, c'è anche parte della strada al campo d'aviazione, Piazza del Popolo, sempre a Fano, e le strade comunali Cacciafame di Ferriano, di Cerbara, dei Pozzetti, cioè al prelato, di Monte Giove, di Piaggio, della Gazza, di Ponte Alto, del Pietrisco, della Galassa, di Monteschiantello e di Tombaccio. Questo è importante dirlo perché, tra l'altro, ogni volta che poi abbiamo il nostro programma con il sindaco di Fano, il primo cittadino, molte delle telefonate vertono proprio su richieste di informazioni su quando verrà asfaltata quella strada piuttosto che quell'altra, e allora ecco che vi abbiamo dato questo elenco che poi è completo anche, ripeto, sul nostro sito. Ma andiamo a vedere a Urbino la pagina del Carlino perché c'è questo racconto di Roberto Damiani che riguarda questa donna, Federica Capponi, che ha 44 anni, urbinate, che con il suo cane, racconta lei, lunedì scorso, poco dopo le 20, quindi alle 8 di sera, aveva deciso di uscire con il cane appunto per fare la classica passeggiata. Questo cane, lo vedete, è di razza Beagle. Insomma, a un certo punto ha fatto qualche passo e si è vista sbucare un gruppo di cinghiali guidato da un grosso esemplare. Probabilmente, racconta lei, è la madre. Mi accorgo subito che è il contrario di altre volte, però questa volta questo gruppo non cambia direzione, ma anzi continua ad andare verso la sua direzione, quindi andare verso di lei. A quel punto comincia un po' a preoccuparsi e il cane, naturalmente, cerca di prenderlo in braccio per darsela a gambe, ma pesa 20 e passa chili, 26 chili, questo cane che vedete nella fotografia, quindi non è proprio semplice, poi si divincolava. Insomma, il racconto è veramente, è scritto bene, ma è veramente angosciante. Insomma, fatto sta che questi cinghiali arrivano, lei cade a terra, il cinghiale, la mamma comincia ad annusarla. Immaginate voi a essere a terra, con il cane a cui sicuramente volete bene, per cui è a rischio, che è lì con voi, anche lui pietrificato, e questo cinghialone che vi gira intorno, vi annusa i cinghialetti, e poi l'uomo, il maschio un po' più avanti. Insomma, una situazione di vero terrore. Tutti i dettagli nel giornale sul resto del carino di questa mattina. Invece, tornando a Fano, la brutta avventura di Silvia Bernardini, che vedete in questa fotografia, ve l'allargo un attimo, così riuscite a vedere tutto schermo un po' che cosa osserva appunto Silvia. Osserva, vedete, l'auto, la sua macchina, questa panda parcheggiata, con la gomma completamente distrutta. Com'è successo? E' successo molto semplicemente. Lei a un certo punto ha sentito un grande boato, come fosse un'esplosione, l'altra sera, verso le 22.50, e stava guardando la televisione, ha sentito questo gran fracasso, e poi il vicino di casa le ha detto, insomma, quello che era accaduto. E' scesa giù, effettivamente, si è vista la sua auto con la ruota distrutta. Ora, il vicino è riuscito a prendere parte della targa, ma capite che il tipo che se n'è andato, o la tipa che se n'è andata in fretta e furia, sperando di farla franca, chiaramente vive nel mondo della Luna, perché sa benissimo che Fano ormai, come tutte le città, ma Fano in particolare, è completamente piena di telecamere. Quindi tempo, penso, qualche ora e già si saprà chi è che è stato, e quindi andranno a scitofonare a casa per dire che dovrà pagare i danni e forse si beccherà pure qualche denuncia, perché poi la signora Silvia Bernardini è andata chiaramente alla Polizia Locale e ai Carabiniere a denunciare il fatto. Insomma, per dire che è inutile farla prendere, fuggire, farsi prendere dal panico, tanto vale fermarsi, non dico il bigliettino, ma insomma aspettare, perché con un caos del genere qualcuno sarebbe comunque uscito fuori casa per accertarsi del fatto. Allora, invece, andiamo, perché c'è la cronaca, come vedete nell'altro schermo, allora, un cercatore di funghi che è morto cadendo nel burrone, è successo vicino a Carpegna, si chiamava Silvio Giommi, aveva 73 anni ed era di Pesaro, la tragedia avvenuta ieri pomeriggio tra la Boscaglia di Carpegna. Lui è un pensionato, abitava a Tre Ponti di Pesaro ed è morto appunto ieri pomeriggio precipitando da un dirupo sul monte Carpegna per un'altezza di 80 metri. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo dopo tre ore di ricerca. E Giommi era arrivato ieri al passo della Cantoniera insieme ad altri due amici pesaresi per cercare praticamente i funghi. Sotto invece a Sasso Corvaro il presidente della regione Acquaroli ha inaugurato il reparto di cura intermedia all'ospedale Lanciarini. A gestirlo sarà Villa Montefeltro. Lungo degenza dice è una realtà. Mentre sullo stupro di cosiddetto di cattolica concessi i domiciliari all'albanese. Per il giudice manca la flagranza del reato, la protesta della ragazza, assurdo che lui parli di rapporto consenziente. Per il GIP quella di lei, la versione della ragazza è molto lineare, al contrario invece quella del 22enne albanese che è accusato di aver stuprato nella notte di sabato scorso questa ventenne della provincia di Pesaro fuori dalla discoteca Malindi di Cattolica in una delle stradine che portano al parcheggio. E ieri mattina, lo ricordiamo, si sono aperte le porte del carcere per questo 22enne albanese. Mentre sempre dai resoconti dei processi dal Tribunale di Pesaro arriva anche questa notizia. Una cinese che ha mandato alla sbarra due titolari di un centro estetico lungo la statale si era rifiutata infatti di fare quelli che vengono definiti i massaggi happy ending, cioè con il finale felice, potete immaginare, ma ci fermiamo qui. Praticamente lei si era rifiutata, i titolari che sono un pesarese e una cinese avevano insistito, pare che ci siano state anche del sequestro di un telefonino, un po' di cose così. Ecco, quindi i due titolari adesso sono stati, in qualche modo uno andrà, uno ha patteggiato, il pesarese ha patteggiato e l'altro invece andrà a processo. Andiamo avanti invece con le altre pagine. Anche qui il Corriere Adriatico, violenza e il GIP non combali dall'arresto, ma dispone i domiciliari per il 22enne. Il legale della giovane, dice il giudice, ha ritenuto logico e congruente il racconto della mia assistita. Mentre da Senigallia alle core dei vandali spacca tutto dello yacht, tre ragazzini sono finiti nel mirino, uno è già stato identificato, trovati effetti personali del giovane. Rognolo, di Gestisport, dice in quell'area le telecamere sono funzionanti. Intanto è arrivata l'autorizzazione per installare i quattro cancelli nella Darsena. Mentre andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico, pagina 3, qui parliamo del problema della crisi, del sistema dei pronto soccorso e della sanità in generale. Mancano i medici d'urgenza. Il concorso per 39 posti presentate solo 10 domande. Il bando avviato da Marche Nord lo scorso 18 maggio scade domani. Intanto mascherine obbligatorie sui mezzi di trasporto, proroga fino al 30 di settembre e tornano intanto le acqua sentiere. Cioè ieri la CEI, almeno così ho visto, ha diffuso anche una nota che riguarda appunto il discorso delle chiese. Senza dilurgarmi troppo, vi dico ecco che dopo tanto tempo finalmente torna l'acqua santa nelle acque santiere. Ecco, quindi meno male, almeno questo. Poi migliaia di multe in arrivo invece ai Novax e ai ritardatari. Siamo sul resto del Carlino, ben 2.500 solo nella provincia, oltre 9.300 nelle Marche, ma all'Asur ci sono 1.273 ricorsi per chiedere l'annullamento della sanzione. Liverani, che è il responsabile del Servizio Eugenio e Sanità Pubblica dell'Asur, dice che il nostro compito è comunicare l'esito dell'istruttoria all'Agenzia delle Entrate. Ma siccome ci sono stati dei ritardi perché quelli dell'Asur non avevano accesso ai dati, ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate, le solite cose all'italiana. Cioè è inutile che stiamo a discutere di tutta sta roba qua perché poi ci facciamo venire il sangue amare. Va bene. Arrivano le multe e pazienza. L'Odissea per presentare il ricorso, due giorni di file di scarica marile, perché poi vedete, c'è anche poi quelli che, presi un po' anche dalla paura, sono andati a farsi vaccinare. E che cosa succede? Che nonostante il vaccino, nonostante si siano messi in regola, però in regola non ci sono quelli che devono essere in regola. E allora, due giorni di file di scarica valire, un pesarese di 55 anni racconta, vaccinato, le peripezie patite per opporsi al pagamento di 100 euro. Ritiro la raccomandata, vado all'Asur, poi a Muraglia, al distretto di Fano e infine alle entrate. Basterà. Insomma, quei 100 euro che tu hai speso tra la benzina e il tempo che... Insomma, fatti due conti. Vabbè. Trovo un portafoglio, queste sono buone notizie invece, perché ci danno ancora un po' di speranza. Trovo un portafoglio dentro con 600 euro, cerca il proprietario e glielo restituisce. Siamo sulla cronaca di Serigaglia, la sorpresa vicino al comando di Via Cavallotti per l'agente della polizia locale che si è subito attivato. Il 45enne si era recato nella sede della municipale per un permesso auto. Andiamo adesso invece a vedere la pagina di Urbino. Qui ci sono le fotografie di quello che è stato un funerale molto toccante, molto sentito, l'appello per la preghiera nel silenzio e un applauso sulle note di Metallica, una chiesa gremita per l'addio a Fabio Ridolfi, bara bianca con una foto sorridente e i simboli romanisti. E l'arcivescovo Tani ha telefonato la mamma di Fabio, dice la mia è stata una telefonata di vicinanza, mamma Cecilia, ho sentito una donna molto provata per tutti questi anni di sofferenza, mi ha detto che suo figlio non è mai stato lasciato solo un momento. E l'arcivescovo dice adesso, Tani dice ora il rispetto. Andiamo adesso invece sull'altra pagina di Urbino e continuiamo a parlare del vescovo, dell'arcivescovo Tani, anche se non esattamente di lui, ma del fatto che Urbino, come abbiamo già detto ieri, sempre leggendo il Carlino, probabilmente non avrà più il suo arcivescovo, perché sarà quello di Pesaro, anche l'arcivescovo di Urbino. Cittadini mobilitati, adesso si nomine un nuovo vescovo. La scelta del Vaticano non è stata presa alla leggera, da parte dei fedeli e persino dai laici, siamo attoniti, è una scelta piena di contraddizioni. Intanto domenica la processione del Corpus Domini nelle vie del centro cittadino. Giuseppe Magnanelli dice, esprimo dolore, disappunto e forte, contrarietà, temo che sia una decisione presa a tavolino. L'inedito 300 fanese in 113 codici malatestiani. Oggi si presenta il volume che documenta gli atti inestimabili dell'archivio di Stato. Oggi c'è una conferenza in programma alle 17.30 nella sala della Fondazione Cassa degli Sparmi di Fano. Poi c'è la cronaca sulla pagina ancora del Corriere. Un motociclista che è caduto per evitare di schiantarsi contro una macchina. Un San Costanzese di 74 anni portato al pronto soccorso con un codice di urgenza. E poi ancora dai giornali eccolo qua il ricordo di Paolo Gurini qui accanto con il figlio Giacomo qualche anno fa dal campetto di Loreto alla VL. Gurini il più grande contro piedista. Paolo ha combattuto fino alla fine contro un tumore diceva sto dando dei pugni ma sono in due contro uno. insomma questa è la fotografia e il ricordo con una pagina intera del resto del carriere di oggi. Due balzi da galoppo poi il pallone nel canestro l'atleta che è sempre stata una persona anche da ragazzo la sua strapotenza quelli come lui scrive Franco Bertini destano invidia più nel destino che nei malvagi. Ecco perché le parole adesso non bastano. Intanto invece tornando sul rimanendo sul Carlino però pagina 15 troverete la notizia che arriva da terre roveresche sul biodigestore di barche del quale si è parlato tanto nei mesi scorsi. Adesso è arrivato il via libera manca qualche dettaglio tecnico ma la conferenza dei servizi ha dato l'ok al procedimento il sindaco Sebastianelli appena rieletto dice ci opporremo si tratta di un impianto da 40.000 tonnellate che sorgerà su un'area di 13 ettari e sotto invece la notizia che è morto Don Cesare Ferri è originario di Cartoceto è stato rettore del santuario di San Giuseppe in Spicello dove domani ci sarà come abbiamo già ricordato il suo funerale alle ore 16 scrive il giornale questa mattina. Poi da Fano invece ancora dal Carlino guardate questa fotografia con Raffaella Pierattoni 23 anni con Roberto Casini storico batterista e autore di Vasco raffida il videoclip tra le bancarelle al palcoscenico con Vasco Rossi la giovane rocker scoperta da Roberto Casini aprirà i concerti del tour estivo del Blasco ad Ancona e a Bari è un sogno che si realizza dice lei sin da piccola sono cresciuta nella musica ora la svolta mentre sotto si stacca un pezzo del cornicione sempre da Fano barista miracolato è successo il pomeriggio in via Edmondo dei Amici si in pronto soccorso il titolare del locale sottostante come abbiamo già detto è successo intorno alle 18 e poi tornando a Fermignano dal Carlino fiori giallorossi e note rocca dio a Fabio chiesa piena al funerale del 46enne colpito da Tetra Paresi l'abbraccio della sua comunità e la presenza di Mirko Cappato sulla barra colori della sciarpa della sua amata Roma alla fine della messa un brano dei Metallica e poi Andrea Ridolfi il fratello di Fabio dice quanta sofferenza lo stato dov'è le ore finali sono state le peggiori poteva terminare tutto in tre minuti e adesso lo sport e velocemente per chiudere questa nostra rassegna stampa fanno emergenza campi una corsa contro il tempo l'avvocato Orciani dice i tempi nostri non sono quelli del comune ma comunque proviamoci le iscrizioni al prossimo campionato di serie D dovranno essere fatte dall'8 al 15 luglio prossimo la tassa di iscrizione è di 16.500 euro alla quale bisogna però aggiungere una fiduzione di 31.000 euro c'è dunque ancora un mese di tempo a disposizione del presidente Mario Russo per iscrivere la squadra e naturalmente trovare eventualmente chi lo aiuti in questa sua seconda avventura al Fano ricorderete insomma che a un certo punto si sfogò a metà campionato dicendo basta lascio tutto il presidente russo lascio tutto non me ne frega più niente qui non non si può andare avanti così e poi come tutti i presidenti degli ultimi decenni che si sono avvicendati alla dirigenza del Fano tutti a chiedere aiuti ma nessuno che poi alla fine tiri fuori o metta la mano in saccoccia per dare un aiuto economico ma comunque questo adesso vedremo intanto l'importante è essersi salvati rimanere comunque in un campionato dignitoso la serie D e vedere un po' che cosa succederà nelle prossime settimane intanto dalla WL quindi basket a Pesero massimi livelli serie A panchina WL in lizza anche dal monte la società che deve ancora riunire il CDA aggiunge un profilo al ballottaggio che coinvolge Repesce e Cagia sono tutti e tre praticamente ex quindi anche qui si tratterà di attendere qualche ora per vedere qualche giorno forse per vedere l'epilogo intanto io mi fermo qui la rassegna è finita noi ci vediamo domani mattina come sempre alle 7 stasera alle 20.30 invece c'è il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci Ciao a tutti �